Vabbè mandiamocene via ma che cazzo ce ne frega Oh 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 ti hanno sporato Oh che cazzo è morto Oh io li ammazzo Via 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 Ti hanno preso? L'hanno preso? Ma a me non mi hanno preso Non neanche a me Io ho visto del sangue ma non ha preso nessuno Ma andiamo a 45 dai Sai che se ci ammazzava cosa succedeva? Panico Oh navoli e sparavo eh Ammazzavano Si si Prendevano male Ma mamma mia Ma se cosa le prendevano a te Facciamo un asperatore Prendiamo un cazzo Ma la polizia e quelli dentro Ciao Ciao Cosa stai facendo? Ma niente vedo quei sette reti sono molto belli Podresti uscire? Si si Grazie Eh dimmi Dov'è il nostro tavolo? Venga venga Ti puoi mettere dentro o fuori? Fuori fuori capito Dentro o fuori? Fuori fuori Vieni vieni corri corri Aspetta che devo servire il nonno Non c'è insieme è qui Siamo noi quattro Mettere giù No no ragazzi è qui Questa libra Ragazzi stanno qui sotto il coso Stanno qui Vieni sul retro Stanno qui guarda Guarda cosa c'è questo tavolo Il signor Perla Adesso devi metterci qui il signor Perla Qui È il tavolo migliore ragazzi Allora Non c'è il tipo di mare per Sì no D'haveruto Ma gli altri Le dobbiamo ancora preparare Amm bell Ragazzi come va? Cosa avete fatto? Sti giorni Pesce in mano Sulle tine di Napoli Ah Pesce in mano? L'altro si è appena svegliato Vivo Ah no Tu invece John? Che l'ho già fatto Ma cazzo ci si siede? Come cazzo? Peter Griffin Peter Griffin Ma zitta così No ma dai ma che sfiga Vabbè meno male No ma fa un culo Meno male che siamo al coperto Ragazzi c'è un culo bagnato Non mi arriva direttamente in testa Ma sulla sedia Andiamo dentro Ma sul piatto C'entra dire la pistola Ma capite Franchino 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 ascolta me Ascolta che c'è Sì Come si dice I ridotti o quelli là Che stanno appena usciti Per me Hai capito Che succede? Oh Ragazzi Non mi cinghiamo Allora Vieni qua No ma è un lavoro Non mi tratta Non mi tratta Mi tratta Non poco male Mi tratta Ma se ci canti il nuovo pezzo Di copone Niente Cosa? Che detto prima? Sto cercando il ombrello Ragazzi canto io dai Praticamente ci fanno Vogliono fare la fattura Non diciamo Scusate Il posto collega Ha detto che c'era l'open bar E quindi Sto cazzo È un territorio pubblico Non è tutto È posto pubblico Ci sono due poliziotti Dura 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 Max Max Vieni qua 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 Franchino No Dobbiamo portare Franchino Andiamo Vieni qua Franchino Franchino Vieni qua Vieni qua Mi sento da via Che se ne devi andà Proprio Guardi guardi Pistole in mano Non telefono quello Senti Cosa c'è? Vieni io devo separarti Sono in te Io te No 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 Sono qua con l'onna E con Miriam Nonno posso rubartelo Un secondo? No Ma in fondo Ma giusto lì in fondo Guarda Adesso vuole Può venire anche lei nonno No 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 Ma dopo me tocca A drittare Che hai colbato i panni Non lo voglio Non lo voglio Non lo voglio Non lo voglio Non butto il batipanni Guarda Ti ho fatto vedere Guarda Non mi dato sta mattina Guarda Io mi avviso a tutti Il tuo collega E come si chiama sto collega Ma noi lo sappiamo Col codino Non puoi entrare così Non puoi entrare perché è brutto Non ho capito Eh no E soffre di una sindrome Ok Che fa creare di essere una zebra Certificata dal medico E quindi Che hai fatto capire? E' mala Scusa signore Voglio proprio vedere se questa è Eh ma Galganca il certifica medico È un Da questo cancello in poi Eh lo so Però non sei un pericolo Per nessun Però Insomma Io Sai cosa fa? Va a mangiare l'erba fora Te fa tutto E lo porto a casa mia ogni tanto A mangiare l'erbetta Perché sei un caro ragazzo E ora Sta tranquillo Che sei un bravo toso Te lo dico a ti Perché così Te lo dico Che si trova anche agli altri Che è tranquillo No Vai vai C'è la polizia Non ho il nome di Francesco Non lo so perché Cosa? T'ho chiesto Stai guardando Francesco Il rubri Da te Oh 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 Mio dio Oh Mio dio Ma che È sposa la tesla Via 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 Polizia 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 Porca puttana Via 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 Porca puttana Ma Ma Che cazzo La gente ti sentiamo sono molto gente porca puttana un attentato merda ti dicevo tu mi dicevi hanno fatto un attento dal perla sposo tutto su tutti i morti sono tutti morti sono tutti morti anche la polizia polizia sta bene cazzo arrivo polizia a vedere che è successo mio dio polizia no ma che l'altro possa polizia no ma che cazzo è successo qualcuno ha messo della bomba al perla oh cici ma che cazzo è successo dimmi 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 praticamente penso di avere una pista su chi potrebbe essere stato si ricorda di oggi quel tizio che l'aveva minacciata sarebbe restata lui perché nessuno parlava come lui di fare no no ma è stata una cosa organizzata c'è sono stati oh crimini fedeli capisco ma che cazzo sta succedendo al perla applausi 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 rosella stasera ti porta a cena ma non voglio che qualcosa non lo so volete altro ragazzi voi ho prodotto io poi giorni e poi giorni ma che se dice un tipo vieni vieni dov'è johnny johnny perfetta ascolta dobbiamo cambiare la frequenza radio perchè oh io lo davo bene oh bro ci puoi far uscire per favore mi scusi io lo davo bene mio oh cazzo qual'è il problema avanti mi dentro ma si è fatto fallo montare sulla moto fallo montare sulla moto metterò il moto cazzo aspetta che chiedo oh signori andiamo in tre R dobbiamo andare in tre in moto veloce R ora non è più R no no oh raga guardate ste guardate se è un pensante ragazzi mi tenete sparata eh ma qui abbiamo metto a rondare comunque altri per stare se devi stare sulla strada devi stare sulla strada devi stare sulla strada devi stare sulla di voi solo una strada sempre di voi comunque no siamo noi siamo noi siamo noi vieni qua vieni qua certo che la scialla mettila dietro vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua devi avviare se arrivano io vicino l'auto quelle moto sono io non sparate vieni qua maiter non devi venire qui devi avviare se arrivano prima del ponte devi avviare se arrivano punto ah ok va bene adesso li allora non ci vuole tanto comunque vieni qua 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 dai ragazzi non è che sentiamo i passi dai sentiamo direttamente le macchine se arrivano e poi dai come fanno due due passi voglio ricordarti una cosa voglio ricordarti che il signor Jack ci ha fatto vedere come sono morti quella volta voglio ricordarti quando avessi ok ma quello è il 45 ok ma lì proprio sono fatti proprio piano piano ma lì lì è proprio abitato ma poi piano piano ero lontanissima qua dove passi c'è dove dove sono i passi qua quindi tra poco se la matematica non è opinione arriverà qualcuno in realtà dipende perchè ci aspetteranno direttamente al 45 secondo me i soldi sporchi già fatti sai com'è ma lì si vende l'altra droga non si vende l'opio no si si vende l'opio l'eroina eh si ah no si vende l'eroino no si vende lì sono confuso io vengo un pò indietro va vengo un minimo incontro e ferro erto ok le prendi anche un panino da rider che io non c'ho più la notte del dog No, no, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, scherzavo. No, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. No, no, parlavo con Kree. Ho finito io pure, sono pronto. Sì, sì, abbiamo finito tutti. C'è gente? Ce ne andiamo? Qualcuno è morto. Kree, 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 andiamocene via subito. Kree, Kree. Spari, spari. Mitra, SMG, SMG, SMG. SMG, andiamocene via. SMG. Via, via, piedi, piedi. Oh, check, Kree. Andiamocene, cazzo. Sono morti. Sono morti, andiamocene via da qui, cazzo. Andiamocene a piedi, cazzo, da qui, da qui, tutta la costa. Facciamocene tutta la costa, vieni, vieni, vieni. Non leggiamo una barca? No, 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 non possiamo, fa quanto costa. Porca puttana. Gennaro, porca puttana. Però a me sta sul cazzo sta roba, è che vanno a dire alla polizia di venire qui, eh. Porca puttana, ma chi gliel'ha detto? Chi gliel'ha detto? Ma secondo te, dai. Ragazzi, chi è sulle montagne? Oh, sei vivo? Sei vivo, sono scappato, sono scappato. Sono tutti morti. Sei dovuto che mi punta, chi è? Non siamo noi, non siamo noi, non siamo noi. Non siamo noi. Siamo scappato. Gennaro, ci sei, Gennaro? Gennaro, ci sei? È morto Gennaro, cazzo. Oh, John, siamo abbastanza lontani. Leva le armi, leva la maschera e sdraiamoci sulla spiaggia. Siamo finta che stiamo parlando.